La crisi di governo era ora che staccava la spina? Non mi faccio parlare perché è meglio che eviti. Non era il momento, bisognava far quadrato e andare avanti. Sui provvedimenti fatti finora, su cosa bisognava lavorare di più secondo lei? Quel poco che è stato fatto mi sembra tutto sbagliato. Mi sembra che sia stato fatto molto poco. Forse uno dei governi che ha realizzato meno negli ultimi anni, per questo mi auguro che duri poco e che lasci spazio a chi ha più responsabilità. Tra chi si dice già pronto a tornare al voto e chi invece preferirebbe aspettare, la crisi di governo divide l'opinione dei marchigiani. I commenti sul possibile ritorno al voto non sono tardati ad arrivare anche dalla classe politica regionale, a cominciare dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che sottolinea in una nota è importante che ci sia un serio impegno da parte di chi vorrà candidarsi al governo del paese a dare risposte per la ricostruzione. La Lega e 5 Stelle hanno dimostrato di non essere in grado di mantenere gli impegni presi. Già improntato alle prossime elezioni, anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che in un'intervista a Rai News dichiara «Dobbiamo dare battaglia per vincere, Zingeretti e Renzi si parlano in fretta, non abbiamo bisogno di scissione». L'esperienza appena conclusa dovrebbe far crescere il movimento nel paese, invece il pensiero di Gianni Maggi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle alla Regione Marche, che continua «Se i numeri dovessero assegnare al movimento il ruolo di ago della bilancia della governabilità, il movimento non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'occasione per vincere quelle battaglie a favore della gente, che sono state e sono gli elementi portanti della sua storia». Dopo la decisione della Lega che ha presentato ieri in Senato la mozione di sfiducia al Premier Conte, ora la sfida si sposta sulle mosse da fare in vista del voto. Convocata per lunedì 12 agosto la conferenza dei capigruppo al Senato, per martedì 13 alla Camera, per decidere quando votare la sfiducia al governo Conte. Il documento potrebbe essere posto all'ordine del giorno, già martedì, così vorrebbe il leader della Lega Matteo Salvini, ma è una possibilità che dovrà trovare il consenso della maggioranza dei gruppi parlamentari, altrimenti la discussione e il voto potrebbero slittare la settimana dopo Ferragosto. Frena invece l'altro vice-premier Luigi Di Maio, che punta a portare a compimento il taglio dei parlamentari. Manca infatti solo l'ultimo via libero dalla Camera prima di tornare al voto.